Ben trovati alle TG Med Sport, ben trovato a Salvatore Gerascio, pianista del Corriere dello Sport. Ciao Salvatore. Ciao Luca. Proprio di Corriere dello Sport ti faccio parlare perché c'è una pagina dedicata al presidente Maurizio Zamparini. Cosa avete detto in questa lunga intervista? Ma tu sai che i rapporti sono di odio e amore, nel senso che ogni tanto lui spara determinate situazioni o le riporto e poi magari nascono dei malintesi su quello che lui ha dichiarato, come quando fu il discorso di Gattuso eccetera. Ma al di là di questo c'è un rispetto secondo me della professionalità. Per cui io questa volta l'ho intervistato senza volere per forza trovare la notizia, cioè la frase gridata più che la notizia. E devo dire che ho trovato un presidente completamente diverso, cioè molto attento, molto rigoroso, funzionale anche e preciso. E questo mi ha fatto un piacere incredibile perché è vero che lui dice io voglio restare ancora altri anni, cioè il Palermo resta altri anni in Serie A, voglio riaprire un ciclo, che può essere una battuta, può essere vero, però sintetizza comunque quello che è la sua voglia. Ma poi fa una serie di passaggi che sono molto ma molto concreti e utili, cioè un Palermo che ha già una spina dorsale per cui deve comprare 5-6 pedine perché in Serie A deve avere un valore uguale alle squadre che hanno un certo target. e punterà ancora sui giovani perché non è possibile un altro tipo di operazione, cerca sempre degli investitori ma lui ha un piano, poi casomai la programmazione cambia attraverso la possibilità di mettere forze fresche in società. Ma una serie di situazioni non urlate ma dette con garbo, con un garbo che ti dico mi ha fatto un po' impressione perché poi è da tanto tempo che lui non parla più come una volta. E che sia cambiato veramente Zamparini? Insomma, se è cambiato e se è quello che abbiamo visto ora può essere una garanzia, una grande carta per il futuro. Ma Iachini è l'allenatore per la Serie A del Palermo? Lui ha detto che con Iachini ha già aperto il discorso per la Serie A, cioè noi stiamo lavorando insieme per creare i presupposti per la squadra della Serie A, quindi se uno dice una cosa del genere significa che già Iachini gli dice che ha bisogno di questo e loro stanno programmando e puntando su questo. Lo stesso discorso su Perinetti, Perinetti ha un contratto di scadenza, lui ha detto si lavora con estrema fiducia, i contratti scadono e si rinnovano al momento della scadenza, non c'è nessun problema né con Perinetti né con Iachini, si debbano abituare sia i dirigenti che i giocatori e la prazzi è questa. Mugnozzo rientra in gruppo, visto che la Serie A passa anche e soprattutto dalle partite in campionato, arriva il Brescia con tanti problemi a livello societario ma anche a livello tecnico, è la seconda partita di Voiaconi dopo la sconfitta contro Latina. Per Iachini il recupero di Lafferty che rientra dalla squalifica, ci sarà Belotti con ancora più minuti sulle gambe, la certezza di Vasquez e di Bala e anche Mugnozzo che era uscito malconcio dalla sfida di Castellammare e di Stabio invece è rientrato in gruppo e dunque non ci dovrebbero essere problemi per il suo utilizzo. Noi ci spostiamo invece a Trapani con grande garbo, abbiamo ascoltato le parole di Boscaia che ha ringraziato anche i tifosi per l'applauso e la standing ovation nonostante la sconfitta interna contro il Siena, non si dimenticano 14 risultati utili consecutivi e lo dice anche Antimo Junco che parla di una consapevolezza ovviamente ormai trovata per il Trapani. Dico proprio di sì perché stavamo togliendo quasi tutti gli spazi allora, è vero sì che loro avevano un po' stesso palla ma era sterile, era finalizzato a Rosina e poi era quello che comunque riuscì a creare superiore della numerica. E' normale prendere un gol così dopo che stavamo tenendo manco una squadra forte, prendere un gol così è normale e ti taglia subito le gambe. Però stiamo lavorando e dobbiamo lavorare perché quando accadono questi episodi dobbiamo aumentare la concentrazione, aumentare ancora qualcosa che fino adesso c'è stato e ci è venuto a mancare un po' meno in questa partita. Da un presidente all'altro perché ti faccio commentare invece le dichiarazioni che abbiamo ascoltato di Pulvirenti nelle edizioni precedenti del Tg Med Sport, Pulvirenti che abbiamo detto ieri ha parlato quasi come parlava Zamparini l'anno scorso quando il Palermo ormai di fatto era nel Baratro. Cominciano ad esserci adesso delle similitudini tra la stagione del Palermo dell'anno scorso e quella del Catania di quest'anno? Se questo Catania ritrova un po' di freschezza mentale e riesce a giocare 90 minuti come li ha giocati con la Lazio la salvezza è portata di mano. Se il Catania è quello delle altre partite compreso quella col Cagliari quando ha avuto un risveglio ma tardivo e allora i problemi sono autentici e sono enormi. Per quanto riguarda Pulvirenti sì a parlare in quella maniera lì si rischia sempre di non riuscire poi ad ottenere i risultati che si vogliono ottenere. Grazie Salvatore Geraci ci vediamo ovviamente con il processo in diretta sabato alle 14.30 c'è Palermo Brescia c'è anche Latina Trapani. Ciao Salvatore. Grazie arrivederci. Possiamo andare su trmweb.it andiamo a scoprire nella sezione sport le notizie che riguardano sempre Palermo Brescia con particolare attenzione alla tifoseria ospite. Rispetto a quanto era stato comunicato in precedenza i tifosi del Brescia potranno acquistare anche dei biglietti di tribuna coperta laterale al costo di 30 euro ciascuno. Ovviamente tutti i tifosi del Brescia possessori della tessera del tifoso residenti nella regione Lombardia. Dunque non soltanto il settore ospiti ma anche la tribuna coperta. Abbiamo visto e ritroviamo le parole di Antimo Iunco e soprattutto nel Catania Spoggi che lavora a parte ma che tra l'altro parlerà in conferenza stampa nel primo pomeriggio di oggi. Catania che festeggia anche i 31 anni del capitano Izco. Invece le immagini ci portano alla pallavolo con la B1 femminile con la Sigel Marsala che ha battuto il Maldera Corato per 3 a 1. 41 punti in classifica dunque sempre prime posizioni di vertice per la squadra di Campisi. Ottima la prestazione di Federica Nasari con 28 punti ottima anche la prova della marsalese Maria Laura Patti con 9 punti. Però la squadra nel complesso ha disputato una partita di grande intensità dunque terza vittoria di fila quella che consente di fare un altro passo avanti verso i playoff promozione. Sabato prossimo ancora in casa alle 17.30 al Palabellina contro la prima donna Bari. Invece sempre con le immagini passiamo invece in B2 femminile con l'Andros Palermo furiosa contro gli arbitri ha perso 3 a 1 contro il Planet Pedara. Però una decisione discutibile sul 24 a 23 del quarto set ha probabilmente impedito alle padrone di casa di arrivare al tiebreak e di giocarsi dunque la possibilità di vincere il match. Adesso la trasferta è insidiosa sabato prossimo a Castelvetrano però ascoltiamo le parole dei protagonisti dell'Andros Palermo. Eravamo sotto di 6 o 7 punti abbiamo fatto un parziale di 9 a 1, 9 a 2 e la partita è stata decida sul 24-23 da un fischio inopportuno dell'arbitro che ha fischiato una doppia che secondo me è inesistente. Però pazienza, il rammarico è tanto anche tra le ragazze perché comunque ci siamo battuti abbiamo giocato un ottimo incontro nonostante i problemi avuti in settimana. Vi ricordo che noi ieri non ci siamo allenati perché me ne mancavano 4 o 5 siamo andati in campo abbiamo dato tutto o quasi sicuramente potevamo fare di più nei due set che abbiamo perso sicuramente il terzo è stato un po' più di rammarico ma nel quarto set meritavamo sicuramente di vincerlo e così di guadagnare un meritatissimo punto e giocarcela poi al quinto set perché tanto un punto era dentro e per la nostra classifica era un toccasano. Vi ricordo che tutte le edizioni del TG Medesport le potrete rivedere sul sito trmweb.it non ci sono altre notizie grazie per essere stati con noi e arrivederci. Il TG Medesport numero 290 a Palermo Infoline 388 90 88 192